Musica Non riassure le relazioni sono disposti Spesso i studenti di famiglia hanno fatto un supporto formativo sia sdliani, cagliici e lì cauti consegreti e consagrati intervengono nel nostro gioco educativi hanno bisogno Ciao, in questi giorni stiamo oyendo il capitolo espettoriale è sempre un'esperienza bella di famiglia di animazione, per ascoltarsi e capire sempre di più che la sfida grande è la comunione. Stiamo vivendo qui a Sassone, a capitolo scrittoriale, profondo, fraterno, sia nei momenti di confronto, di riflessione e anche nei momenti di spiritualità e di fraternità, è sempre un'occasione speciale, bella, simpatica da vivere. Sono molto contento di essere qui, che sembra una banità detta così, perché nelle interviste si sente spesso dire, secondo te, invece mi sembra proprio una bella apertura far parte del essere presente, anche se solo come invitato, al capitolo, perché chi condivide la missione salesiana sa anche l'importanza di alcune strutture in una congregazione, anche strutture che sembrano un po' tra virgolette rigide come può essere quella del capitolo. Quindi nel profilo del salesianosofi, la cosa più bella, una delle cose più belle, possa essere quella di Milena e di Comunione. di Milena e di Comunione.